Filippo Busina, buone notizie per i comuni alluvinati della Veneto. La Lega Nord che cosa ha ottenuto? Finalmente oggi siamo riusciti ad accendere un faro e riservare un po' di attenzione a questa regione che obiettivamente è sempre trascurata nonostante contribuisca in modo determinante alle casse di questo Stato con 21 miliardi di anni di residuo fiscale. Oggi siamo riusciti come Lega ad estendere un beneficio che era riservato ai comuni alluvinati del Modenese, di estendere appunto questo beneficio fiscale anche ai comuni del Veneto che sono stati colpiti dall'alluvione nel periodo che va dal 30 di gennaio al 18 di febbraio di quest'anno. Si tratta di una sospensione degli adempimenti tributari fino a luglio compreso. Adesso ci aspettiamo che l'Aula confermi il parere positivo già dato in Commissione del Governo è votato all'unanimità della Commissione Finanze e che quindi questo provvedimento prenda corpo e diventi esecutivo. È una boccata di ossigeno per gli imprenditori di questa zona ma anche per le famiglie? Sì, è una boccata d'ossigeno, soprattutto è un'attenzione che viene riservata a questa regione visto che contestualmente bisogna registrare anche che la nostra mozione che attenzionava il Governo sui problemi derivanti da questa alluvione grave è stata spostata in calendario alla Camera di altri 20 giorni diciamo che questo in parte compensa quella che secondo noi invece è una grave disattenzione è un grave segno di poco riguardo per la nostra regione. Grazie. Grazie.